Vabbè, visto che mi li ha rubati... No, ma non ve lo dico. No, dai. Non ve lo dico che a settembre c'è un concorso dove potete salire in moto con me e gli altri piloti. Vabbè, non vi ho detto niente. Però secondo me li ha fregati i carli. Ho un braccino. Ah, io col ciclista manco di parlo. Quindi questo è anche contro voi ciclisti. Poi io, se non faccio i nomi, è perché non li posso fare. Non possiamo continuare a tacere. Tu come fai? Con una cosa così e teni alla nascosta. Ma come faccio? Io lo vorrei mettere anche domani. Lo vorrei mettere anche domani. E giocarcela con questi due nuovi modelli. Che sono? C'è il vostro stampo. M104 e X702. Ok? Arriveranno poi. Eh, uno spero. Così magari me li ricordo. Comunque alla fine, niente. Lo sport vincere la sportività. Pace tra i ciclisti e tra i montagelanti. Melandri, Bagliocco, Sandy. Allora, tutti voi sapete che il casco ce l'avrò io prima. L'espagnolo lo vede prima di voi. Perché c'è un concorso. E chi lo vince riuscirà a venire con me a fare un giro in moto. Credo che Franciacorta e la moto credo che sarà una Ducati. Ciao. Ciao. Ciao.